Siamo venuti al concerto di Gigi D'Agostino per fare qualche domanda di cultura generale, andiamo! Il nome del presidente del consiglio? Alfano Berlusconi Matteo Renzi Quello è già andato, ce n'è uno nuovo? Come ce n'è uno nuovo? C'è DJ It! Non c'è il presidente del consiglio No Che festa è il 25 aprile? La Pasqua È Pasqua il 25 aprile Festa della libertà La liberazione Da che cosa? Dell'umanità Dell'umanità Festa della liberazione Ma di a che cosa? Gli ebrei Ma chi ci ha liberato? Si è ucciso Perché Simone diceva, mi hanno suggerito In che anno è nato Gesù? Chi? Gesù Eh In che anno è nato? E che ne so io quando è nato? È nato prima di Cristo Nel 900 avanti Cristo, non lo so 1800 qualcosa, non lo so Nel 1900... Nel 30, anni 30 Non lo so Chi ha scritto i promessi sposi? Chi l'ha scritto? Degli sposi, secondo me Napoleone, no, non è Napoleone D'Antoni Chieri Sono una capra Maria, io esco Anch'io esco Che cos'è il suffragio universale? Eh, il suffragio universale, secondo me È una catastrofe che può succedere Un momento all'altro nel mondo È quello dell'arca di Noè L'apocalisse? Il Papa Nel suo percorso della vita Ha invitato i suoi discepoli a seguirlo In questo suffragio Quando si vota La vittoria agli uomini e alle donne È il suffragio universale questo Andiamo a parlare dell'olio di palma È buono Perché sta ridendo? Fa male la salute Che cos'è l'olio di palma? Qualcosa che c'è nei dolci Ed è troppo buono Oh, è beccato più ignorante Le unioni civili Sono civili perché? Perché uniscono due coppie Una coppia di due sessi Sono civili perché la gente si comporta bene Non litiga e non si picchia Le unioni civili sono civili perché? Perché sono contro io le unioni civili Perché? Perché non hanno senso Cioè, sei contro natura, secondo me Perché l'amore non può essere universale? No L'amore è tra uomo e donna Che cos'è l'IVA? È quella che costa tanto, secondo me È quella cosa per cui se tu hai un'impresa o un'azienda Puoi andare nei grandi magazzini e comprare a prezzo minore Iva Che ve la mette nel culo Puoi poche parole Lei è la mia Iva Te ne intendi di musica? No Chi canta Bohemian Rhapsody? So che cazzo è One Direction David Guetta Sentite qua, questa è musica Questa è musica Michael Quinn Chi canta Yesterday? Green Day John John Travolta Va bene, ok, grazie Sono stata bravissima Molto brava Top Top